Sono circa 11.000 euro che derivano dalla riduzione dell'indennità di sindaco e assessori. Come ogni anno chiediamo ai cittadini le proposte per cosa farci. Sono arrivate tante proposte, tante idee da parte della cittadinanza. Abbiamo scelto le proposte delle scuole, quindi i due istituti comprensivi, assieme ai genitori, assieme ai ragazzi, ci hanno richiesto di dotare la scuola di nuove strumentazioni tecnologiche e quindi andremo ad acquistare delle lavagne interattive multimediali, dei pc portatili, degli schermi LCD e quindi delle attrezzature che potranno servire in questo percorso processo di apprendimento e di insegnamento dei nostri ragazzi. È un buon modo questo per far sentire più vicino il cittadino e l'amministratore? Sì, era un nostro punto del programma elettorale. Abbiamo detto sin dall'inizio che anche l'amministrazione, anche la giunta comunale doveva fare il suo, doveva dare qualcosa di suo per cercare di migliorare la città e penso che sia un buon esempio che l'amministrazione comunale porta. Le cifre non sono ingenti, però alcune cose si riescono a fare, alcuni progetti si riescono a portare avanti ed è una bella soddisfazione soprattutto perché vengono messe per i giovani, per i ragazzi, per il nostro futuro.